hanno regalato una rimessa a Napoli Young recupero di Banks che poi si lancia in contropiede 3 contro 2 palla per Faggian con spazio Leonardo Faggian sono già 4 i suoi punti guarda Faggian che lascia sul posto il difensore va a chiudere Leonardo Faggian che poi chiama il pubblico a sé 6 punti qua in bello stile lasciato lì sul posto il difensore poi a chiudere con la mano sinistra Muglietti qua per ad una brutta palla contro Faggian che va in contropiede a schiacciare grazie a tutti grazie a tutti